Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria in campionato per il volle soverato in trasferta in quel di Martignacco 3-1 e noi la commentiamo questa prima vittoria con l'addetto alle statistiche, New Entry nello staff tecnico Roberto Colato un'impressione innanzitutto sulla partita e sulla reazione che ha avuto la squadra dopo l'esordio stagionale andato male in casa con Vallefoglie Prima di tutto voglio ringraziare il presidente Matozzo e tutta la società per avermi dato questa possibilità questo è il primo anno di campionato femminile, io vengo da 15 anni di maschile la reazione della partita è stata molto buona, primo set abbiamo pagato un po' il viaggio poi abbiamo giocato bene con i centrali, molto bene in ricezione soprattutto a Masone e Lotti e abbiamo giocato molto bene in difesa, muro difesa con i due liberi per quanto Federica Ferrari giocava con la maglia da schiacciatrice sia De che Barbagallo hanno giocato molto molto bene questa partita Ecco in qualità di addetto alle statistiche allora a questo punto ti chiediamo le differenze anche dal punto di vista statistico oltre che del gioco tra la prima giornata di campionato in casa con Vallefoglie e la trasferta invece di Martignacco Beh comunque abbiamo alzato la nostra positività di ricezione ciò che ha permesso a Laura di giocare molto più con i centrali non per niente abbiamo visto che Denis Mede, la nostra centrale, ha fatto 19 punti e sia Piacentini che Riparbelli hanno giocato molto bene quindi già alzando il livello di percentuale positiva e soprattutto perfetta abbiamo eliminato gli errori, cosa che contro Pesaro per quanto abbiamo giocato contro una giocatrice che è la Paminio dalla schiacciatrice Mancina di Pesaro ci ha messo un po' in difficoltà già non mettendo tanto errori, abbassando il livello di errori abbiamo giocato molto bene Infine domenica nuova trasferta, seconda consecutiva si va a Ravenna contro una squadra che domenica scorsa ha perso in trasferta a sua volta 3-1 a Cutrofiano presentiamo quindi dal punto di vista tecnico e statistico questo avversario Ravenna è una squadra comunque di categoria che sicuramente da tanti anni milita ormai nella Serie 2 anche se ha tradizioni molto più importanti e gloriose siamo in avvio di campionato quindi ovviamente le difficoltà ci sono per tutti i roster che sono cambiati molto, tra questi anche il Soverato e sicuramente tra questi possiamo includere anche Ravenna Sì vabbè Ravenna è comunque una società storica, ha sempre fatto bene in Serie 2 noi abbiamo una loro ex giocatrice che Silvia Lotti ha giocato metà campionato due anni fa a Ravenna è un po' diversa da quella che troveremo a Martignacco la Morello è una patriciatrice che piace spingere il gioco un po' come Laura la Covalenca è molto più fisica rispetto alla Dapice hanno un problema, hanno avuto un infortunio grave che è la Laura Grigolo la schiacciatrice quindi gioceranno con la Piva e la Guasti che è la loro terza schiacciatrice andremo là provando a fare punti E visto che sei uno delle new entry dello staff tecnico ti chiediamo le prime impressioni su questi primi mesi a Soverato al di là delle prime giornate di campionato voi siete qui già da diversi mesi per via della preparazione atletica un giudizio sull'ambiente, sulla squadra, sulla città? Guarda, noi siamo qua dal metà luglio da fine luglio siamo iniziati, una delle squadre che abbiamo iniziato prima la preparazione mi sto trovando molto bene sia con le società, squadre giovane però hanno voglia di emergere, voglia di fare bene quindi anche in allenamento vogliono sempre spingere di più e fare molto più mi sto trovando benissimo con lo staff tecnico che ero io che mi dovevo integrare in uno staff che già lavorava da tre anni sia con Bruno Napolitano che con Diego Boschini mi sto trovando veramente bene e sto entrando in un'ottica diversa perché è diversa dalla statistica da maschile al femminile quindi piano piano mi sto anche io aggregando sono un nuovo innesto quindi piano piano mi sto aggregando anch'io Laura Bortoli una delle principali protagoniste di questa prima vittoria in campionato del Valle Soverato in quel di Martignacco una bella reazione dopo la sconfitta interna all'esordio stagionale con Vallefoglia 3-1 domenica nuova trasferta altro impegno ostico questa volta si va a Ravenna sì sicuramente la partita a Martignacco è stata difficile ma volevamo riscattarci appunto dalla prima qui in casa adesso pensiamo a Ravenna è un'altra partita molto complicata perché comunque loro hanno un roster esperto e niente stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare e appunto arrivare pronti a domenica tu sei una delle colonne portanti di questo nuovo gruppo sei qui già dall'anno scorso si è detto sempre che questo è un gruppo molto giovane ma dalle enorme potenzialità domenica queste potenzialità si sono viste a Martignacco c'è sicuramente tanto da lavorare ma è una squadra che ha dimostrato di avere nelle corde dei valori importanti anche dal punto di vista tecnico certo siamo tanto giovani e appunto talentuose l'unica cosa che dobbiamo cercare nei momenti magari di down di stare insieme e uscirne appunto come una squadra è normale che soprattutto all'inizio non conoscendoci ancora tanto ci siano appunto questi momenti così bui però man mano andiamo avanti e riusciamo sempre di più allenarci e appunto a fare bene ormai conosci bene da diversi anni questo campionato di A2 sono passate solamente due giornate ma che idea ti sei fatta ti sei fatta di questo campionato non solo del Gironest che è quello vostro anche dell'altro Girone perché comunque poi se le cose andranno come devono sarete costrette ad affrontare poi anche parte delle squadre dell'altro Girone quest'anno devo dire che non c'è tanto divario anzi sono tutte squadre molto complicate quindi ogni partita è a sé ovviamente bisogna dare tutto quello che si ha ovviamente ci sono magari delle squadre come Roma o Pinerolo o come la nostra Pesaro che abbiamo scontrato anche noi però secondo me appunto ogni partita è a sé bisogna viverla appunto nel momento e quindi vedremo le sensazioni per quanto riguarda le prime due partite disputate che hai avuto anche sulle tue prestazioni oltre che su quelle della squadra naturalmente diciamo la prima partita ero un po' agitate tutto però ci sta magari appunto essendo l'esordio in casa del nuovo anno ci poteva stare la nuova squadra niente sono molto positiva e la squadra anche se è giovane appunto ha tanta voglia di fare bene e di farsi vedere grazie a tutti